e benzi ragazzi oggi vi do il buon video per il mio video per il punto no e il video non so ragazzi come fare tutto questo e poi scendendo è una nota parche adesso è un più lungo mio video adesso ragazzi i ribelli andiamo sempre Harry Potter cosa ho fatto ok la sfigurazione storia let's go ok ragazzi adesso soldo subito ecco ecco no 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 i miei difetti sui video che posso dire sicuramente mi ha visto su video harry potter e ron weasley e piacerebbe con noi forse dovete trasfigurarvi in un rotto da tasca in questa maniera almeno un video arriverà in onario ci siamo persi perché una mappa ora conto lo contiamo con una direzione sto lavorando l'arte della trasfigurazione sono alcuni occhi lungo e lungo il fianco della parete con coi quali pari pratica e torna da me quando li avete figurati beh è fatto come ti avevo chiesto volevo sopra perché così se mi blocco come se ce n'è qua mannaggia prima te sei cavato facilmente mi dissocio poi vedevo ti stessi per trasformare un orologio da tasca per davvero ma scusami è impossibile non capirò mai questo incantesimo non hai restato qui tanto è che mi domando se alcune gente sono più facili da trasfigurare gli altri ma tutto uguale a spagna non è che è facile mangiare se si guarda facilmente è uguale alla ragazza oh ragazzi spiego cos'è la trasfigurazione muovi i pezzi di una produzione corretta per completare il blocco di capo ah raga è qua che mi sono bloccato raga raga è qua dove mi blocco è qua dove mi blocco tipo ragazzi non sono giusti potrebbe essere cosa qui poi l'unico che potrebbe andare qua è questo qua mio dio un altro l'ho messo qua un altro qua un altro cosa che fate non lo so però ok ecco dove blocco lega perché non so dove ho messo i pezzi e questo prima rega rega poi non vuole più le spiega non ho più le spiega e continuare questo gioco quasi manco c'è un salta qua di questo modo è non che magari questo qua questo qua c'è perché questo qui aspettate ragazzo troppo tutto così è forte questo come ha messo un mezzo e non ci piove cosa che ho messo qua sotto ma poi c'è questo qui che perché ragazzi manca un pezzo c'è l'unico pezzo perché non Grazie a tutti. A me è bello che neanche muove si possono gli oggetti, mannaggia a luglio. Grazie a tutti. Anzi, ci vediamo con la storia perché magari sono io che facciamo i video. A dopo. Ragazzi, se vi rendete conto, guardando qua, questo puzzle, vedete che qua io ho fatto un pezzo, ma non è giusto. Vuol dire che quindi, aspettando un attimo, questo qua va messo qua, questo va messo qua, intendo. Questo, perché la vedete poi, aspettate perché, magari di uno in giù, di due in giù, intendo. Questo qua, questo qua, questo qua, per forza. Questo qua. Ci vedete, ragazzi, uori belli? È impossibile. Ragazzi, vedete? Questo qui è fissato, questo qui, ragazzi, è un pezzo fissato. Ecco, un altro pezzo fissato, ragazzi, perché fa rumore, ragazzi, uori belli, eh. Ecco, un altro pezzo. Ecco, un altro pezzo. Un altro pezzo. Un altro pezzo. Ragazzi, ho capito, non devo metterlo sui bors... No, ragazzi, ho capito. Un anno qua per ragionare e ce l'ho fatta. Ho capito. Ragazzi, non devo metterli sui borsi, viola. Ragazzi, faccio come chimica, ragazzi? Ragazzi, faccio come chimica, ragazzi? Adesso. Ok. Aspetta, ok. Come chimica, ragazzi, uori belli? E so, ok. Alleluia! Ce l'ho fatta dopo un anno di ragionamento. Dopo un'estate! Con matematica o chimica, ragazzi, uori belli, ce l'ho fatta. Oh, mannaggia. I simboli... Blu, si dicono che puoi saltare su... Soltanto la... Beh, non è l'altro? Sola. Ah, dovete... Che vuoi farlo? C'è un'altra? C'è un'altra? Qua, 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 qua. Qua. Oh, questo. Calmi, questo. Questo. È un'altra cosa che ho capito il meccanismo. Quello di non mettere i sui bordi. Magari era... È un'altra cosa che ho capito il meccanismo. È un'altra cosa che ho capito il meccanismo. Un'altra cosa che ho capito il meccanismo. Un gioco di ucci e rossi. Bene, è fatto come ti avevo chiesto? Molto bene. Se vuoi puoi continuare a desecitarti. O puoi avviare verso la lezione di volo con Madame Boom. Sione completata, ragazzoli belli. Vuoto. Sempre stico a o. Non usciamo. Ho fatto la misione completata, ragazzoli belli. adesso come messo in forza e ragazzi fatto fatto lungo vabbè la testa figurazione 15 i capelli sbloccati uno sono sbloccato o levi corpus che una macchina è una multa poi dovete sbloccare bloccato sfigurazione gioco libero e continua la storia ragazzi così qui è badam boom si lascerò e video su canale però non fa più un gaccio life spero per un locale più con queste cose perché devo proprio capire come si fanno i prossimi livelli combattere bombe e ragazzi in c si ragazzi così in preto voluto like e condivisioni ismai a teca pena con un minuto più se si può me quasi sempre caccia da che se non avrà i ragazzi messi a risse io ciò che si lascia